Al Sagittario dedichiamo il numero della donna elastica, signori Astro Magic. Rossella, vuoi mettere fuori la tua testolina? Grazie. La mano sinistra, il piede sinistro, la mano destra, il piede destro. Vuoi muovere mano sinistra, mano destra, piede destro e piede sinistro. Bene, ed ora attenzione. Grazie. Grazie. Moppy? Moppy Petey? 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 Grazie a tutti. 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 Vuoi muovere il piede sinistro? Il piede destro? Vuoi muovere la mano destra? Saluta. Ora, Rossella, numero tre, numero due, numero cinque, vuoi prendere il foulard? Saluta il pubblico. Vuoi entrare il foulard? La mano sempre fuori. Rossella, la mano sinistra. Vuoi muovere la mano sinistra? Vuoi muovere la mano sinistra? Vuoi muovere la mano sinistra? Due, cinque, e ora Rossella un bel sorriso. grazie a tutti. Vuoi muovere la mano sinistra? Per... E' un'altra? E' un'altra? E' un'altra? E' un'altra? Perù. Giù. Vuoi rientrare il piede sinistro per cortesia Rossella? Grazie il piede destro, la mano sinistra, la mano destra. Prego. E vuoi rientrare anche il tuo bel visino Rossella? Grazie a tutti.